La stagione della Scandone è terminata da poche ore, ma i biancoverdi si stanno già muovendo per progettare il futuro prossimo. Il primo punto fermo della Sidigas versione 2019-2020 potrebbe essere Massimo Maffezoli. L'allenatore veronese, dopo aver iniziato il campionato da secondo di Vucinic, è stato promosso lo scorso 10 aprile a ruolo di head coach. In poco più di un mese e mezzo, Maffezoli è riuscito a rigenerare una squadra che pareva ormai erano sbando. Se dal punto di vista tecnico la sua mano si è vista solo parzialmente per il poco tempo avuto a disposizione, è chiaro invece che sotto l'aspetto caratteriale l'impatto dell'ex Sassari e Brindisi è stato notevole. Se la serie giocata contro Milano è riuscita a far dimenticare, almeno in parte, una seconda parte di stagione regolare per niente esaltante e a rinforzare il collegamento fra la squadra e la piazza, che sembrava quasi inesorabilmente sfilacciato, gran parte del merito va al coach Veneto e dello stesso parere sembrano essere sia il DS della Scandone, Nicola Alberani, che il patron de Cesare. I contatti fra le parti per cominciare a programmare il futuro ci sono già stati e Maffezoli potrebbe avere, finalmente, la prima opportunità in carriera di guidare da capo allenatore una squadra sin dall'inizio stagione. Una possibilità che stuzzica, ovviamente, il diretto interessato e la stessa Scandone.